Centro Luce, un'impresa di successo, e Giusy Malato, un atleta di successo, per raccontare in uno spot come si fa a diventare i migliori. Così la nuova campagna pubblicitaria 2005, della nota azienda di illuminazione d'interno, che anche quest'anno riconferma la sua vocazione allo sport. La filosofia di base della nuova campagna nasce dalla consapevolezza che nell'impresa, come nello sport, bisogna lavorare con serietà e con grande determinazione per raggiungere il successo. 28 anni di storia, 28 anni di professionalità, 28 anni di successi. Centro Luce racconta come si diventa i migliori. Sono tanto felice di partecipare a questo progetto. Quando il Centro Luce mi ha contattata per la realizzazione di questo spot, ho pensato subito che insieme potevamo dimostrare che dietro a tanti successi c'è sempre tanto lavoro. Giusy Malato ha scalato le vette del successo in una corsa inarrestabile e ha vinto praticamente tutto. Con lei, luci e oggetti Centro Luce brillano nella stanza dei successi, preziosi, protagonisti, dotati di forte personalità, proprio come lei. Una performance che dura uno spot. Firmata a Centro Luce. No, non sono nata con la camicia io. Ma ho imparato che qualunque vita stai vivendo, bisogna fare di questa vita un'opera d'arte. Qualunque sia la meta, bisogna lavorare duro per raggiungere. Ci vuole impegno, dedizione. Ci vuole la determinazione di arrivare fino in fondo. E ci vuole entusiasmo. Perché senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. È la volontà che fa l'uomo grande e piccolo. E io vedo il mio traguardo. E lo voglio. La superiorità vera è tutta qui. Centro Luce. I migliori scelgono i migliori. E lo voglio. Grazie a tutti.